Benvenuti alla nostra rubrica leggere liberi. James è un ragazzo di 18 anni, vive a New York, il papà è un importante operatore di borsa a Wall Street, la mamma possiede una bellissima e nota galleria d'arte, ha anche una sorella un po' più grandicella di lui, un simpaticissimo cane, insomma una famiglia ricca e colta. Chi oserebbe volere di più della vita? E tuttavia James non è un ragazzo felice, James è il protagonista di Un giorno questo dolore ti sarà utile di Peter Cameron. James è un ragazzo che la mamma considera disadattato, il papà lo vede poco che quando lo incontra parlano di cose futili, la mamma è al suo terzo matrimonio e il suo terzo marito durante la luna di miele le ruba la carta di credito e la lascia in albergo da sola. James è un ragazzo che non ama parlare molto, parla proprio lo stretto indispensabile, non ama i suoi coetanei e non vorrebbe andare all'università dove i suoi invece lo destinano. Il problema principale era che non mi piace la gente e in particolare non mi piacciono i miei coetanei, cioè quelli che popolano l'università. Ci andrei volentieri se ci studiassero persone più grandi, non sono uno psicopatico, è solo che non mi diverto a stare con gli altri. Le persone, almeno per quel che ho visto fino adesso, non si dicono granché di interessante, parlano delle loro vite, le loro vite non sono interessanti, quindi mi secco. secondo me bisognerebbe parlare solo se si ha da dire qualcosa di interessante o di necessario. L'unica persona con cui James sta bene, l'unica persona dalla quale si sente veramente capito sino in fondo senza bisogno di troppe parole è la nonna Nanette, la nonna materna. Mi piaceva moltissimo il posto dove mi trovavo in quel momento e la situazione era molto precisa, intensa. Stavo lì nella cucina di mia nonna a bere il caffè appena fatto in una tazza vera e non in un bicchiere di carta col coperchietto. Nella sua cucina ordinata e perfetta con la porta sul retro aperta e un filo di brezza che circolava per tutta la casa. Sopra il lavello l'orologio elettrico ronzava garbatamente giorno e notte, il pavimento in linoleum era liscio come cuoio dopo tanti anni di pulizie. Davanti a me con un vestito comprato probabilmente 40 anni fa e messo migliaia di volte c'era mia nonna che mi ascoltava che sembrava accettarmi come mi accettava solo lei e fuori tutti intorno a noi un sereno sabato estivo e un mondo non ancora completamente sopraffatto dalla stupidità, dall'intolleranza e dall'odio. James in realtà non è un ragazzo depresso, non è un ragazzo disadattato, è un ragazzo che cerca soltanto autenticità. Questo è un romanzo che si legge tutto ad un fiato, un romanzo che uno dei nostri ragazzi, un adolescente di oggi a mio avviso leggerebbe veramente tutto ad un fiato. Quindi ve lo consiglio, ve lo consiglio fortemente, troverete qui tantissimi spunti da discutere in classe con i vostri alunni. Bene, vi ringrazio e alla prossima e mi raccomando come sempre veniteci a trovare sul nostro sito web e sui nostri canali social. Grazie.